Benvenuti, siamo con il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Marachie Infettive Lazzaro Spallanzani. Benvenuto professore. Grazie, benvenuti, benvenuti, ma ben trovati e grazie, grazie per l'invito. Professor Vaia, la scuola è stata fortemente penalizzata in questo periodo di pandemia. Appena saliva la curva di contagio si procedava immediatamente con la sua chiusura. Tuttavia questo provvedimento si è dimostrato poco efficace nel contenimento del virus e nel contempo ha provocato forti disagi, in particolare gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Tra i giovani sono stati registrati fortemente i problemi psicologici e gli atti di autolesionismo. Cosa si sente di consigliare per trovare un giusto equilibrio tra contenimento del virus e tutela dei nostri ragazzi? Io ho detto più volte e adesso lo vorrei ripetere in una maniera un po' più propositiva. È maggio e diciamo che i dati sono tutti molto confortanti. Anche l'anno scorso a maggio i dati erano buoni, tant'è che molte persone pensavano riapriamo, riapriamo tutto, eccetera. Allora io sono sempre stato considerato in Italia tra le persone più aperturiste, aperturiste ma con rigore. Io tengo a precisare che noi dobbiamo aprire tutta la nostra società, in tutti i suoi segmenti. A partire dalla scuola mi sono molto battuto perché la scuola riaprisse, ma sempre tenendo presente che per un tempo determinato, noi ci auguriamo non tanto lungo ormai, ma per un tempo determinato, dobbiamo ancora mantenere il nostro atteggiamento rigoroso rispetto alle misure. La scuola. Io ho detto a maggio dell'anno scorso e ribadisco oggi che la prima cosa da fare per la scuola, segmento sensibile della società, così come i trasporti, le due cose si mettono insieme, bisognava avviare, bisogna avviare, io ho fatto anche un appello al presidente Draghi che ho trovato per la verità molto sensibile, un appello ad attuare un piano Marshall per la scuola e per i trasporti. Fare due cose molto semplici. La scuola è un contenitore, nella scuola non si è mai formato il contagio, nella scuola si è portato il contagio e potrebbe portarsi il contagio. Allora, delle tre regole, diciamo quella che forse è la regola più importante è il distanziamento, perché se io e lei siamo distanziati, è evidente che il contagio diventa difficile. Quindi la prima cosa da fare è aumentare questo recipiente, aumentare la ricettività della scuola, quindi eliminare, purtroppo ancora presenti sono nella realtà nostra scolastica italiana, le cosiddette scuole pollaio, diminuire il numero dei ragazzi nelle aule, questo potrebbe determinare un'altra necessità, quella di aumentare il personale, quella di aumentare il personale docente e non docente. E perciò ci vuole un piano Marshall, l'evidente, bisogna investire ancora di più nella scuola, aumentando la ricettività, aumentando gli spazi liberi, aumentando il personale e forse, anzi senza forse, cercando di pagarlo anche meglio, remunerare ancora meglio e di più il personale docente e non docente delle scuole. E io poi sono affezionato, adesso non vogliamo chiamarlo Bidello, si chiama in un altro modo, io non voglio entrare in questa terminologia, non voglio avere problemi sindacali, io dico l'idea, sono affezionato all'idea di personale, come dire, che possano accompagnare, controllare, verificare, questo l'ho detto anche per i trasporti, controllare che tutto avvenga in una maniera, come dire, disciplinata e secondo certe regole. C'è bisogno di fare questo, che i ragazzi vengono accompagnati nei momenti ludici in cui stanno tutti quanti insieme, nei servizi igienici, controllare l'afflusso ed il deflusso, insomma, la scuola deve tornare centrale. Io non ricordo un governo che non abbia detto la nostra priorità alla scuola, però la scuola è così come noi la vediamo e bisogna intervenire. Penso ad esempio al problema della refrigerazione e del riscaldamento. Come possiamo pensare che i nostri ragazzi, dai piccoli ai più grandi, possano stare in aula con tanti di loro e con tutte le finestre aperte, anche d'inverno? Questa è una cosa sbagliata. Probabilmente bisognerà intervenire anche sugli impianti di condizionamento perché ci sono le regole sui nuovi impianti di condizionamento per far sì che ci sia reazione e che, come dire, stanza e stanza, non ci sia un ricircolo, ma il ricircolo venga dall'esterno all'interno e non tra due aule. E questo per esempio è un'altra cosa, quindi più personale, pagare medie personali, il ricircolo, aumentare la ricettività e quindi anche, io dicevo, per un tempo transitorio, se questo, e so bene che non è possibile, costruire tanti presidi, tanti building, ma forse aprire, secondo criteri, anche di qualità ad altri ambienti, ambienti, come dire, della scuola paritaria, della scuola privata, prendere tutto ciò che è possibile eliminando, eliminando cinema, teatri, supermercati, capannoni, ho sentito tante cose sbagliate. Tra l'altro i cinema e gli altri devono tornare a fare quella che è la loro missione, quindi, e poi non evocare, quando sento dire, la scuola trasferiamola in questo posto lì, evoca ancora, come dire, l'emergenza. Io sono contrario al dato emergenziale. La scuola, insomma, deve tornare veramente, perciò parlo di piano Marshall, al centro dell'attenzione dei nostri governi nazionali e regionali. E insieme, guardare i trasporti. Quante famiglie mi hanno scritto, dicono, ma noi a casa siamo attenti, distanziati, non invitiamo nessuno, poi i nostri ragazzi prendono le metropolitane, prendono gli autobus pubblici e sono accalcati uno sopra l'altro. E quindi aumentare e migliorare i trasporti. Le due cose sono insieme, perché come abbiamo capito, poi io voglio dire, all'inizio è stato un po' massacrato da tanti sindaci o assessori che mi chiamavano per dirmi, ma noi i trasporti sono sicuri. Poi non io, ma l'hanno detto i NAS, l'hanno detto tanti altri, che i trasporti invece non erano sicuri. Ribadisco, bisogna, adesso che è maggio, prima che la scuola riprenda a settembre, che riprenda una grande immobilità, bisogna intervenire. Adesso, adesso, adesso. Ecco, professore, lei a Gennaro ha incontrato gli studenti del Viceo Romano Tasso che potessavano contro la DAD perché teneva giusto ascoltare la loro voce. In quell'occasione aveva proposto di mettere in sicurezza le scuole vaccinando sia gli insegnanti che gli studenti dai 16 anni e poi. Purtroppo non è stato ascoltato. Ora si torna a parlare di vaccini ai giovani scendendo come età a fine 12 anni. Quando è importante arrivare all'inizio del prossimo anno scolastico con una platea il più vaccinata possibile? Ero e sono favorevole. Ero e sono favorevole. Tra l'altro, grazie per avermi ricordato quella bellissima giornata dei ragazzi al Tassio. Non potrò mai dimenticarlo. Quei ragazzi perché erano tutti quanti seduti per strada distanziati, correttamente distanziati. Io gli feci una domanda. Ragazzi, chi di voi è contrario a che si vaccinano per primi i nonni e i genitori? Alzi la mano. Non alzo la mano nessuno. Se siete d'accordo che si vaccinano prima i più deboli i nonni, fate un applauso. E fece un applauso a scena aperta. Perché dissi questo? Perché in quel periodo si voleva mettere come dire una fascia generazionale contro un altro. Un errore gravissimo perché i nostri ragazzi sono eccezionali all'interno di questo nostro grande paese che si sta dimostrando di essere un grande paese. I giovani sono la parte migliore. Guai a trattarli male. Quindi dobbiamo costruire una bolla negativa nella scuola. Quindi oltre a personale docente e non docente bisogna vaccinare anche i ragazzi. Ieri sera non so se qualcuno di voi ha sentito Fauci gli hanno fatto la domanda vaccinerebbe lei i suoi nipoti? E lui ha detto senz'altro sì. Adesso è arrivato anche il momento dei ragazzi. Saranno i maturanti e poi dopo i maturanti gli altri ma andiamo nelle scuole a vaccinare i ragazzi e soprattutto allontaniamoli dalla DAD perché la DAD ha dimostrato se io lo utilizzo eccezionalmente anche noi adesso stiamo utilizzando uno strumento telematico ma se noi abituiamo i ragazzi invece che farli andare all'aperto a respirare al tempo libero con stili di vita salutari stiamo facendo tutto il contrario e i ragazzi potrebbero risentirne per anni in questo momento quindi non è il sistema DAD che è sbagliato attenzione io non dico che la DAD è sbagliata è la DAD sola che è una cosa che è una cosa sbagliata l'insegnamento a distanza può esserci come fatto eccezionale e temporaneo ma l'ordinarietà deve essere la scuola frontale insieme con gli altri la socialità il tempo libero l'aria aperta bisogna che i ragazzi tornino alla normalità quindi del vaccino sì sì mille volte sì è il momento del richiamo per i docenti ma i suoi vaccini continuano a girare notizie discordanti dopo il caso AstraZeneca è la volta del richiamo Pfizer ci aiuta a capire meglio qual è la situazione in particolare perché si parla tanto dei rischi legati a questi vaccini rispetto ad altri tipologi di vaccini per esempio quelli antifluenzali allora i vaccini che abbiamo oggi in campo sono tutti buoni e sufficienti per eliminare la malattia grave l'ospedalizzazione e quindi a maggior ragione la mortalità tutti tutti i vaccini messi in campo per quanto riguarda Pfizer il discorso della seconda dose diciamolo subito allora la seconda dose nei 21 giorni è da fare a coloro che sono fragili quindi gli oncologici che stanno in terapia i trapiantati gli immunodeficienti bisogna farli in 21 giorni gli altri si possono fare anche a 35 40 giorni l'azienda stessa dice fino a 42 tra l'altro vi sono molti studi che in questo momento stanno dimostrando che quando più si va avanti più c'è produzione anticorpale la prima dose ti protegge per oltre l'80% se l'obiettivo è vaccinare il più numeroso numero di persone possibili di prima dose in modo da abbattere la ospedalizzazione la malattia grave eccetera è giusto fare quello ma io voglio dire una cosa questo problema ce lo siamo posti perché avevamo carenza di dosi perché se avessimo avuto dosi sufficienti questo problema non ci sarebbe stato e quando lei parla di Astro o di altri diciamo la verità ci sono state delle comunicazioni sbagliate disorientanti la gente non ha capito più niente quando si diceva a un certo punto dopo i 60 anni e poi sotto i 60 anni e poi le donne fertile e poi i maschi la gente non ha capito più niente e allora adesso bisogna essere chiari basta con i balbettini precisi tutti i vaccini sono buoni per evitare la malattia le donne dai 30 ai 40 anni nei dafferti che prendono anticoncezionali non devono fare il vaccino adenovirale ma fanno quello di RNA che può essere Pfizer che può essere Moderna e quant'altro ma tutti gli altri lo possono fare tranquillamente ora io non sono autorità regolatoria e sto esprimendo il mio pensiero e ribadisco non esistono vaccini di serie A di serie B e anche in serie europea sono fatti gli errori perché quando si dice non compreremo più questo vaccino dovresti dire perché non lo compri per motivi commerciali perché ci sono delle inadempienze contrattuali va bene dirlo ma se non lo dici la gente può pensare che c'è un vaccino di serie A e un vaccino di serie B cioè se perfino la comunità europea non lo compra quindi i cittadini hanno ragione sono gli unici che hanno ragione in questo momento a lamentarsi perché sono stati disorientati io spero che adesso noi tutti tanti perlomeno stiamo facendo chiarezza abbiamo capito che il vaccino è importante è fondamentale bisogna farlo la prima dose già ci dà una protezione dell'80% ci sono alcune categorie al rischio che è meglio non fare l'adeno virale ma è meglio fare l'RNA dopodiché vacciniamo tutti rispetto agli altri tipi di vaccini sono più pericolosi o hanno lo stesso indice di pericolosità qualsiasi vaccino come qualsiasi farmaco qualsiasi sostanza estranea immessa all'interno del mio organismo può creare delle reazioni avverse diceva un amico quando io esco per strada e faccio 50 km per andare al lavoro nella mia possibilità di rischio c'è che posso fare un incidente stradale allora il problema è perché deve capitare proprio a me giustamente 8 su 8 milioni sono veramente una cifra diciamo illusoria ma ho anche un morto anche un solo elemento avverso è un fatto che ci deve dispiacere però dobbiamo vedere costo benefici cioè meglio sarebbe zero rischi ma nessun farmaco ci dà zero rischi chi prende la pillola c'è dei rischi come sappiamo di prendere la trombosi ci sono tantissimi farmaci se leggiamo i bugiardini dice ma ora non me lo prendo più questo farmaco perché c'è tutte queste reazioni effetti collaterali quindi la comunicazione è molto importante nessun vaccino nessun vaccino è esente da rischi nessuno quindi sono tutti quanti uguali tutti i vaccini sono buoni per evitare l'ospedalizzazione noi dobbiamo stare sereni e voglio dire credo che il nostro sistema sanitario se qualcuno ha qualche problema io consiglio spesso ci sono problemi di allergie consolidate di immunodeficienza eccetera di farlo in ambiente protetto magari ospedaliero dove può essere immediatamente immediatamente soccorso abbiamo avuto pochissime reazioni questa è la verità pochissime reazioni però ribadisco meglio sarebbe non averne proprio però il beneficio che noi abbiamo come sistema paese oltre come persone è troppo più importante bisogna vaccinare poi ci sono le altre terapie ci sono le terapie innovative gli anticorpi monoclonali che non sostituiscono il vaccino ma che si integrano che sposano e la come dire parlando della scuola io ho sempre parlato di tre elementi vaccino e terapie innovative il sistema paese che deve rispondere in maniera corale e terzo la forza che ci mettiamo noi come cittadini andare contro la depressione ecco perché tornando alla DAD bisogna eliminare tutto questo e far respirare il paese far respirare il paese fanno rivivere dargli la forza e il coraggio di continuare a combattere questo virus che ribadisco stiamo distruggendo comunque lo stiamo sconfiggendo lo sconfiggeremo ecco questa ultima domanda lei parlava degli anticorpi monoclonali i vaccini sono gli strumenti principali per combattere il covid-19 ma nella cassetta degli attrezzi a disposizione dei medici proviamo altri strumenti per contrastare la malattia come appunto gli anticorpi monoclonali ma altri strumenti sono in arrivo si parla per esempio di farmecini di piodoro di protease il vostro istituto è stato sempre in prima linea nella lotta a covid-19 ci dice come state procedendo? allora noi stiamo andando avanti con le sperimentazioni in queste ore proprio adesso io ho finito questa vedrò i miei colleghi che si stanno occupando insieme con me di sperimentare anche gli anticorpi monoclonali eccetera io penso che noi abbiamo oggi davanti due problemi anzi tre problemi il primo è quello di non rispondere degli immunodeficitari eccetera che pur essendo vaccinati non producono anticorpi non possiamo abbandonare questi soggetti anzi dobbiamo aiutarli e noi stiamo immaginando di utilizzare gli anticorpi monoclonali quindi non solamente come farmaco per guarire dalla malattia ma anche come come dire immunità passiva cioè ti do direttamente l'anticorpo che tu non sei stato in grado di produrre per vari motivi e quindi ti proteggi con questo diciamo anticorpo monoclonale quindi non viene più utilizzato come farmaco ma come profilassi come prevenzione della malattia e stiamo pensando utilizzare gli anticorpi monoclonali stiamo anche immaginando sempre per coloro che hanno avuto difficoltà di anche di accesso alla campagna vaccinale perché non pensiamo adesso pensiamo anche al futuro per il tempo che ci resta davanti di poter dare per un tempo limitato una immunità passiva il vaccino è da preferire perché è un'immunità più naturale attiva io sono io che produco gli anticorpi ma se non sono in grado oppure se devo attendere potrei farmi anche diciamo una iniezione prendere una capsula perché stiamo andando molto avanti su questo questo può essere la strada del futuro e soprattutto se la facciamo a casa noi dobbiamo essere in grado di portare le terapie innovative a casa delle persone nessuno vuole andare in ospedale noi abbiamo avuto un eccesso di ospedalizzazione anche perché il territorio è stato troppo sguarnito negli ultimi tempi noi dobbiamo potenziare il territorio e fare in modo che le persone se non hanno bisogno se non sono gravi soprattutto nelle prime fasi della malattia vengono curati e guariti a casa portando a casa terapie innovative e strumenti anche diagnostici più performanti io immagino di fare ecografia di scoprire a casa se uno ha una polmonite e se non è una polmonite grave di poterla curare anche a casa questo è l'orizzonte parlando di orizzonte scuola questo è l'orizzonte che io vedo davanti a me potremmo uscire migliore da questa pandemia se capiremo tante cose abbiamo capito tante cose come cittadini eccetera il resto dobbiamo anche capire come sistema sanitario dobbiamo potenziare il sistema sanitario investire molto di più investire nella ricerca e soprattutto investire sul territorio il territorio sta troppo sguarnito e dobbiamo potenziarlo grazie 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 a voi sono stato onorato di questo invito anche perché ho una moglie che è insegnante quindi sarà molto interessata la vostra intervista sicuramente la leggerà e con grande interesse grazie 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 grazie